non c'è nessuno non c'è nessuno siamo entrati ciao ragazze ecco la prima sera della nostra serata scusa un attimo grazie per la Coca Cola ragazze guardate il passepartout eccolo, siamo andati in giù alla reception per i 100 anni che ci eravamo persi la scheda questo è il mio dentifricio una delle nostre complici si è spacciata per Ilaria Bellani fai una bella I lì? una I? una I di Ilaria è proprio il Lumad se volete fare la pipì e ti anche sulla gornetta si 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 aspetta 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 si a la regala dai piano che ha questa droga ecco l'aria qual'è? è lo svolato provata anche a girare qualche madre a svegliere no 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 non sarebbero capaci quello lì controlla controlla osserva lì fatto Matteo Matteo? Matteo? chiamateci adesso Matteo guarda che sincronismo vi siete divertite? a ballare più veloce più veloce mamma mia ragazzi uuuh guarda la roba che gioco di squadra ce ne hanno un nuovo corsetto o qualcosa? vediamo qui la vedica noi avanzoli scrivere però vi siete divertite no vado corsetto noi a ballare c'è questa la cara sto scherzetto dai c'è quell'altro dei panzoli dei venerini dai dai è loro tanto questo no no ho toccato quando finito il tè sul cuscino no no troppo Matteo che bastardo ti ho detto a me mi hanno scritto queste idee non so ho detto i pantolini prima no no devo trovare un rossetto o qualcosa ma c'è il mascara? scusate no no questi vabbè sono regali i regali magari no o questi ci sono oh eh i barba trucchi sono diversi con questi i nomi aiaiai 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 è andata bene è andata bene questo è il nostro complice non è vero andiamo via dai